Buongiorno a tutti abbiamo con noi Michele. Buongiorno ragazzi. Michele viene da Altamura in provincia di Bari. Questa è la tua prima vacanza in una Pulea Hotel. Vorremmo sapere da te tre punti di forza e modo da consigliare, da aiutare i nostri amici a venirci a trovare la Pulea Hotel di Corigliano Calabro e un'altra struttura. Ovviamente l'accoglienza dei ragazzi e la professionalità diciamo degli animatori fa la differenza. Grazie. E' da tanti anni che faccio vacanze in Calabria ma questo è l'eccezionale. Bene. Un animatore unico. Grazie grazie. Cucina come ti sei trovato? Bene bene però sono dimagrito. Non ci sei riuscito nella... Faccio sport. Nella missione dei tre chili. Fa sport e quindi abbina le due cose. Come sei stato Gennaro? Sinceramente ottimo. Bene. Gennaro ha partecipato anche allo spettacolo ieri. Ha fatto una bellissima salsa. E' anche una morte certa. No. Morte del figlio. Non è. Ha partecipato. Ha fatto un grande scherzio di capire quindi ti sei divertito? Sì. Mi sarà talmente divertito che vorrei ripetere questa vacanza. Bene bene. Noi speriamo di ritrovarci in chissà un'altra... entro l'estate, entro settembre oppure l'anno prossimo. Lo consiglio. Lo consiglio. Lo consiglio. I bambini si stanno divertendo? Io ho un bambino da 12 anni che praticamente non l'ho visto da quattro giorni e l'altra da sette mesi con la quale... Ovviamente state sempre insieme però abbiamo un servizio fantastico per i bambini. Sì che è la baby... Biberoneria. Mi avete capito. Esatto. E vogliamo chiederti un tuo parere su questi giorni qui alla Pulea Hotel. Allora guarda è stata una settimana fantastica. Ci siamo divertiti tantissimo. Mi dispiace tanto andare via. Anche grazie agli animatori perché sono stati veramente bravi. Grazie. Però purtroppo finisce. Bene amici siamo qui in diretta dalla Hall dove stiamo facendo una lezione di cucina col nostro chef. Ovviamente i nostri amici più che venire a capire come si prepara il piatto sono venuti a provarlo. Allora la nostra settimana è positiva. Pensiamo di ritornarci il prossimo anno. Più di così cosa ti devo dire? Consiglieresti questa settimana di vacanza? Sì. Anche perché noi ne facciamo un'altra due. Alla grande. L'hanno già scelto al doppio. All'ultimo va bene. Facciamone un'altra e siamo rimasti. Bene. Il nostro Andrea, il nostro Agostino, i nostri amici a Pulea Hotel, Corriano Calabro e tu. Ciao.